la porteremo a lucido Sio Gino Ma ti pagano? Svuotala Questo che cacchio è sembra una candela ha un dito Beh ci dai una mano? 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 Beh va bene la conchiglia ritorna nel ciclo No a me mi ha detto che poi passava di nuovo Roberta buongiorno Rompiamolo così esce la sabbia Sempre il solito disfattista sei! E io pensavo che eravate venite a pulire però No! Mi ti ha detto questa cosa? Mi ti dà queste informazioni sbagliate? Aspetta Massimo Ragazzi che state facendo? Stiamo facendo il lavoro degli scartini Cioè? Stiamo raccogliendo quello che dovrebbero raccogliere loro Ah quindi quindi oltre al fatto di pulire dovete pure cariciarvela ok Quello è tutto a vetro? Sì Anche questo? No Sì Roberta ora risaliamo con i satti Sì 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 È molto bella Stai mettendo la bussa nuova? Certo, non nuova riciclata. Lavata con perlane. Stai mettendo la bussa nuova. 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 Allora, qual'è la prossima zona? Porticciolo, ok, andiamo. Ma l'altro dentro, sopra è rimasto? Sì, vicino al punto del tuo, non mi muo. Però questa è buona, bucate. Ma dentro me la porto io. Però con quella... Ma ora poi l'ho rotto. Bucate, lì fa fine. Io ho già dato, l'ho rotto. Bucate, 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 bucate. Lì è trucca, eh. È trucca. E voi credete che io non vi vedo, ma io vi vedo. È purito. Perché io non muovo. Non mi lascia mai? Non, è sola. È deciso. Noi non mi lascia mai. che cosa e non ce ne so più no Gino il vetro no 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 questo che camion di chi è? ah hai messo a disposizione quello della vederia? ciao di tutto e di più che cos'è? collant e beh scusami secondo te? e meno male che avete questi bei guanti doppi e non basta come lo andiamo a prendere? non è male che non abbiamo portato lo straccio per lavare la terra veramente? sembra un giardino quasi come era e com'è si manca solo la cera prego prego annunciazione annunciazione signora ci dica ci siamo svegliati volentieri per pulire questo pezzo di spiaggia che faceva schifo questo messaggio va a tutti i meridionali a tutti i meridionali e in special modo ai napoletani che prendessero esempio Napoli è bella e non va bistrattata come questo posto brava ci aspettiamo domenica prossima al Gabbiano ci siamo in quale luogo? ci aspettiamo domenica prossima al Gabbiano siate numerosi siate in tanti volete bene la vostra spiaggia non c'è bisogno